Ben ritrovati al consueto spazio dedicato agli appuntamenti. Giovedì 7 febbraio, presso il castello Albani di Urniano, Anna Fusco e Denis Pianetti racconteranno la storia dei canyon delle Orobie, un mondo ricco di storia, tradizioni e leggende. L'incontro è alle 20.45. Sempre giovedì, a Villa di Serio, presentazione della mostra Costantino tra arte e fede. L'appuntamento è alle 20.45 presso la biblioteca, l'ingresso è libero. Venerdì 8 febbraio alle 21 al Circolo Arci Maite di Bergamo in scena l'attore comico Giorgio Montanini con un esilarante spettacolo Nibiru, Satira senza inibizioni, l'ingresso è libero con Tessera Arci. Sempre venerdì, a Val Bondione, sfida di freestyle allo Snow Park di Lizzola. Per tutto il giorno si sfideranno gli artisti dello snow per uno spettacolo che vi toglierà il respiro. Ed infine, sabato 9 febbraio, spettacolo di danza al Teatro Kreber di Bergamo. Open è il nuovo spettacolo del geniale coreografo statunitense Daniel Esralow, che si fonda su un'idea di danza fatta di divertimento, agilità sorpresa e convolgimento diretto con il pubblico. L'appuntamento è alle 21, i biglietti da 27,50 euro a 33 euro.